Walter Bonacina, la primavera continua in perterrita, obiettivo raggiungere evidentemente le finali, si va avanti a passo spedito. Sì, diciamo che è un gruppo che sta dimostrando delle qualità importanti attraverso le prestazioni, questa è la cosa che fa un po' più piacere insomma e quindi anche oggi è andata bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, devo dire, grande intensità, anche qualità di gioco e sono arrivati tre gol. Poi nel secondo abbiamo gestito un po' il risultato, però devo dire che i ragazzi hanno dato tutto, il campo era pesante e sono usciti proprio esausti. Quindi si prova un po' con il sole, con l'acqua, col bel tempo, col brutto tempo, ma del resto questo ovviamente battute a parte è il calcio, una squadra che risponde bene, che cresce bene, che fa ben sperare soprattutto per quello che è il futuro. Sì, è quello che conta di più per noi del settore giovanile, insomma è quello di riuscire così a livello individuale a creare dei ragazzi che siano pronti per la prima squadra e credo che questo sia un buon gruppo dove si può attingere. Ogni tanto con l'Antuono Pesca, quando c'è qualche difficoltà per quel che riguarda la rosa della prima squadra, insomma ci sono dei giocatori che vengono chiamati in causa da Stefano Colantuono? Sì, tutte le settimane lui me ne chiama qualcuno, questo fa enormemente piacere a me e ai ragazzi che così si fanno delle esperienze importanti e hanno degli ulteriori stimoli per il loro futuro. Quanto può essere importante per i tuoi ragazzi essere chiamati in prima squadra, potersi magari allenare, muovere con i professionisti della Serie A? Beh è fondamentale perché credo che poi questi ragazzi è un gruppo che per dire questo è assieme da 5-6 anni quindi penso che sia il loro obiettivo poi alla fine quello di raggiungere la prima squadra e quindi questo hanno delle motivazioni eccezionali, si vede anche durante la partita e anche durante gli allenamenti, quindi quando vengono chiamati così, allenarsi con la prima squadra, credo che per loro sia il massimo. Primavera dell'Atalanta, squadra da battere? Beh speriamo, speriamo di continuare, spero che i ragazzi rimangano umili, che lavorino come stiamo facendo tutta la settimana per poi vedere i risultati alla fine, poi sarà alla fine dell'anno che si tireranno le somme.